Sono Rocconi Mirko della ditta Recicla, responsabile di cantiere. Recicla è un'azienda che lavora i rifiuti, più triturazione legna e movimento materiale. Noi lavoriamo parecchio con le gomme perché portiamo tutto il materiale tramite tale. Avevamo tanti problemi di forratura e di usura delle gomme. Noi abbiamo una mescola personalizzata e un disegno personalizzato della Marangoni. La gomma dura di più e non si fora perché abbiamo trovato la mescola per le nostre lavorazioni in mezzo al rifiuto. Se abbiamo una forratura, nella giornata o entro 24 ore abbiamo sempre l'assistenza vicina. Con Marangoni abbiamo migliorato parecchio le nostre lavorazioni, i nostri tempi persi e i fermi macchina. E dopo abbiamo guardato i costi. I costi sono minori che prendere una gomma nuova. Consiglierei alle aziende che fanno il nostro lavoro di provare la ricostruzione Marangoni.